Orazione a Gesù Crucifisso da recitare tutto il mese di novembre. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mentre io, con tutto l'amore e con tutta la compassione, vado considerando le tue cinque piaghe, cominciando da ciò che disse di te, o Gesù mio, il santo profeta Davide, hanno trafitto le mie mani e i miei piedi, hanno contato tutte le mie ossa. Chi dopo la comunione reciterà con cuore contrito e con spirito di devozione la predetta orazione dinanzi a qualunque immagine di Gesù Crucifisso, pregandolo per i bisogni della Santa Chiesa, potrà conseguire l'indulgenza plenaria. Santo Protettore Tutti i Santi Santa Caterina Vergine e Martire Oppure Sant'Andrea Apostolo Sia fatta, lodata, in eterna esaltata, la giustissima, altissima e amabilissima volontà di Dio in tutte le cose. Firtù da praticare La pazienza 6 novembre Facilità di soffragare le anime Con la preghiera Il Dio ha consegnato nelle nostre mani le chiavi del purgatorio. Un cuore fervoroso può liberare un numero immenso di anime. Per ottenere questa grazia non è necessario distribuire tutto ciò che abbiamo i poveri, né fare straordinarie e particolari penitenze, ma si può facilmente pregare il giudice Gesù di avere pietà di tutti quelli che soffrono e gemono nel purgatorio. Il Dio ti ascolta ed esaudisce quelle anime se lo preghi con amore e devozione. E tu preghi qualche volta per queste anime sante. Con il sacrificio della messa basta una sola messa a votare il purgatorio. È davvero grande il valore del sacrificio eucaristico, se Dio lo vuole. Ma per altissimi fini, a noi sconosciuti, qualche volta Gesù ne limita l'applicazione. È certo però che nel tempo della messa l'angelo verso sulle anime il meritato rifrigerio. Con la messa non siamo più noi soli a pregare. C'è anche Gesù che prega e dona il suo sangue per la liberazione del sante anime. È forse difficile far celebrare o ascoltare una santa messa al soffragio delle anime sante? Tu lo fai qualche volta. Con le opere buone. Ogni azione virtuosa, oltre il merito suo proprio, porta con sé la potenza di soddisfare i debiti contratti con Dio per i nostri peccati. Tale soddisfazione possiamo applicarla a noi, oppure donarla alle anime purganti per pagare i loro debiti con Dio. Inoltre, le comunioni, le elemosine, le penitenze, qualunque atto di carità, di penitenza, di mortificazione, costituiscono un grande tesoro per la liberazione delle sante anime. Quanto è facile, dunque, suffragarle. E tu, perché sei tanto trascurato in questo? Prattica del giorno. Fa un'offerta di tutto il bene che farai a soffragio delle sante anime. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e del Figlio,